Buongiorno, siamo oggi in compagnia del neoambasciatore armenio in Italia, Sargizia Sarian, e vorremmo chiederle proprio questo, cosa significa essere armeno oggi in Italia? Buongiorno, grazie, grazie Irene. Dovrei essere estremamente sintetico, anche se il tema è vasto e affascinante. Essere armeni in Italia vuol dire essere testimoni della storia italiana o della penisola degli ultimi 1500 anni. Possiamo raccontare questa storia attraverso le narrative armene, delle comunità armene che hanno a lungo abitato sulla penisola. Ma in tempi molto recenti essere armeni in Italia ha voluto dire partecipare alla lotta partigiana, contribuire a far sì che l'Italia diventasse quella che è oggi. Voleva dire essere medici, avvocati, membri della società civile, voleva dire essere fondatori di università in giro per il paese. Essere armeni in Italia vuol dire anche, e quello che io mi aspetto dagli armeni dell'Italia, vuol dire essere coloro che introducono l'innovazione, il know-how. Oggi la Repubblica armena ha bisogno soprattutto di questo. Infatti come coniuga l'Armenia la tradizione, quindi l'identità cristiana, la forte identità e invece l'innovazione, quindi questo ideale del commercio proprio tipico anche degli armeni in Medio Oriente? L'Armenia è una repubblica molto giovane, compie 21 anni, però è una nazione antichissima, abbiamo 3000 anni di storia e di forte identità, con una svolta nel 301 in cui l'Armenia si convertì come la prima nazione al cristianesimo. Noi stiamo tentando, e questa è la straordinaria, la fascinante utopia, la nostra esperienza come laboratorio statale di uno Stato che si trova in Europa ai confini dell'Asia. Oggi parliamo dell'emergenza uomo, dell'emergenza dei cristiani in Medio Oriente. Ebbene, noi a confine con quell'area geografica stiamo realizzando un'utopia, uno Stato moderno, democratico, che si basa su valori cristiani. Guarda verso l'Europa, sta tornando verso l'Europa dopo 70 anni di oblio sovietico e lo stiamo facendo concretamente. La civiltà europea, l'identità europea è un locus a cui abbiamo appartenuto, a cui abbiamo contribuito a far sì che diventasse quella che è. E ecco, abbiamo questa straordinaria possibilità oggi di realizzare un'utopia, Stato moderno, basato su valori cristiani. Infatti si costruisce proprio su questo, non rinnegando il passato, ma costruendo sul conflitto. Abbiamo visto anche l'Europa è proprio nata dai conflitti. Quindi qual è lo stato attuale dei rapporti bilaterali con l'Italia? Io direi straordinario. E questo sta alla radice del mio mandato di rappresentare l'Armenia in Italia. E credo che il ruolo, la funzione e la missione di ognuno dei miei colleghi, ambasciatori di qualsiasi paese, di far sì che si avvicinino le posizioni. Nel caso italiano in realtà non abbiamo contrasti, abbiamo semplicemente opportunità. E facciamo del nostro meglio con colleghi italiani di sfruttare al meglio le opportunità, che in questo caso particolare sono di tipo politico, e cioè il nostro cammino verso l'Europa, ma è un cammino senza sbavature con altri attori regionali, la Federazione Russa o gli Stati Uniti. Quindi è un approccio inclusivo. Nel campo di sicurezza, in questi giorni si sta dibattendo di un nostro contributo insieme ai peacekeepers italiani, agli operatori italiani di pace, di agire sulle missioni di pace in giro per il mondo, per le aree di crisi. E naturalmente c'è una dimensione economica, è quella di capitalizzare sulle reti, sull'innovazione e sui giovani. L'Armenia si interfaccia sul mercato globale come uno snodo, un hub di ricerca e sviluppo tecnologica. E noi vorremmo, stiamo realizzando in realtà questo snodo. L'Armenia è anche un ricettore di turismo. L'anno scorso soltanto ci sono stati 350.000 turisti italiani che hanno visitato l'Armenia. Anzi, vi invito tutti. Si dice che l'Armenia è fatta da pietre, pietre urlanti di libertà. E rispetto al meeting, quali sono le sue sensazioni? Che cosa porta quando tornerà a Roma all'ambasciata? Beh, porterò l'entusiasmo, porterò la straordinaria capacità di ragazzi della nostra generazione, noi siamo quasi coetanei, di realizzare, di trasformare un'idea in un qualcosa di tangibile e di farlo con il coraggio, con l'audacia di coloro che credono in un qualcosa che purtroppo sembra non essere più di moda. Invece è l'essenza della nostra identità. Ecco, porterò questo, porterò il coraggio di trasformare idee, utopie in realtà. La ringraziamo moltissimo e alla prossima. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie.